Noi, segni e semplici, occupi e acinti, noi puri e cambii. C'era un ottimo feeling sul palco e devo dire che suonare nel centro storico di un paese ha sempre un fascino particolare. C'è anche sempre un po' la sensazione di essere un po', come posso dire, invasivi no? Siamo comunque una band rock e i volumi sono alti, le case intorno, però credo che fossero anche un po' così abituati. Credo che sia la quarta edizione, quindi anche questo problema in realtà non è stato un problema. Figo, siamo contenti, abbiamo fatto un gran concerto, siamo felici perché nonostante tutto quando saliamo sul palco siamo sempre molto determinati e molto vogliosi di divertirci e di far divertire. Ciao. Ciao.